TIPICA GIORNATA DI NOVEMBRE IN GIAPPONE Eccoci, è una giornata spettacolare Le nuvole sono solo frutto delle ciminiere Vi presento un ventilatore Il nome è Luigi Luigi il ventilatore Visto da lontano? Visto da vicino? Vieni, rientra all'ovile Perché proprio niente fa Oggi è una giornata rilassante Se lo vedono i tuoi amici A 10 minuti arriveranno tutti quella cosa a pranzo Taccassi la pasta